Amici Trebi Meteo, benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di domenica che sarà ancora molto variabile in tutta Italia per la presenza di una zona di bassa pressione posizionata proprio sul Mediterraneo centrale. E così vediamo la previsione della nuvolosità con nuvole estese un po' in tutto il nostro paese, nuvolosità che però col passare delle ore lascerà spazio anche a qualche timida schiarita, sia nelle regioni centro-settentronali e poi dal pomeriggio anche su parte del nord. Però atmosfera molto instabile, quindi precipitazioni, acquazzoni e piovaschi per lo più di breve durata, vediamo dove sono previste queste piogge appunto per la giornata di domenica, precipitazioni che saranno ancora una volta più probabili sulle regioni tirreniche, qualche fiocco di neve a inizio giornata ancora sull'arco alpino, però in generale guardate ombrella portata di mano, l'acquazzone è sempre dietro l'angolo. Quindi in definitiva dicevamo giornata molto variabile e instabile, nuvole che vanno e vengono, qualche acquazzone più probabile dicevamo sul versante tirrenico, qualche fiocco di neve al mattino sulle Alpi ma poi a fine giornata piogge in netta attenuazione in tutto il centro nord. Con questo è tutto per i dettagli scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.